Quarta parte del quinto capitolo della storia Il risveglio dell'oscurità di Tekken 8. Guardate che abbiamo questa volta. Abbiamo un lottatore, Shaheen. Affronterà il suo avversario. Guardate chi c'è contro di lui. Sergei Dragunov. Ora io vi saluto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Non dimenticate Costanza Films.